buonasera a tutti buonasera a tutti siamo qui per vedere come funzionano le api manager e in particolare come funzionano le api manager che permetteranno a voi di creare uno script all'interno del quale metterete appunto le api e potete con queste collegarvi al service di google per vedere se il vostro sito è o non è tra quelli segnalati nella blacklist di google come malware ossia che hanno al loro interno un virus o cheppure lo stanno regolando per la rete questo google non lo specifica ma in quanto difficilmente lo possa fare qui potete vedere c'è il sito products and service ossia ci sono i vostri prodotti e i vostri servizi diciamo che vi troverete in questa pagina qui iscrivendo console.developer.google.com ossia sarete ridiretti su questa strada che anche questo sito che anche le sezioni api dashboard project eccetera cerchiamo questa pagina qui le vostre api probabilmente non sempre qui il library e credenze ci sarà sito a questo punto andate qui cliccare su api manager e sicuramente vi appariranno a siti le library e le credenze le library sono tutte le api che google mette a sua disposizione per voi le principali sono le cloud api map applications youtube social mobile advertisement other applications come analytics tradate customer page speed fusion web font developer come avete capito non ci sono le le safe browsing legacy perché non sono tra le principali allora dobbiamo ricercarli attraverso il box scrivete malware e appariranno subito un safe browsing api e safe browsing api e le prime sono sperimentali ma già funzionano perfettamente quindi le possiamo utilizzare l'abbiamo create eccetera eccetera ora chiedo scusa che bisognava creare il progetto perchè io l'avevo segnato un progetto già fatto mi cliccate il progetto lo selezionate il progetto appena creato si chiamava progetto 5 da qualche da qualche parte sarà di sicuro e questo va a parte allora questo va a russi caride non so se c'è un tipo di utilizzare comunque questo è il progetto 5 a questo punto non dovete per altro che cercare come avevo fatto contattivo le vostre api browsing qui vi da una piccola descrizione appunto che vi sono un collegamento tra la tua operazione e il google service andate su enable a questo punto vi darà le credenzial ossia la api vera e propria che vi permette la presentazione se cliccate qui si aprirà un box e in questo box ci sarà la vostra api personale quindi io non lo puo perchè altrimenti insomma la potrete vedere tutte le due quindi cliccate qui create credenzial e apparire la vostra api personale andate su questo script ora qui lo script lo potete trovare ampiamente su node solution script api eccetera eccetera vi lascio tutto e vi lascio tutto così com'è quindi non avete bisogno nemmeno di fare particolare mette sforzi vi lascio il link anche sulla pagina qui sotto su youtube quindi api key e ci mettete quell'api che avete creato in credenza protocollo versione attualmente da 3.0 client via view app application version 1.0 interroganerete tramite questa query google passandogli come url quella che avete inserito e che volete controllare la risposta sarà 204 quindi niente malware per google 200 malware per google e 401 non ho trovato e 501 è il server server a carico e quindi si trova in principale niente tutto bene in questa maniera avete creato le vostre google key api safe browsing quindi